Noi di Dorelan abbiamo chiesto ad alcune persone cosa sanno del loro materasso. Ma non ci siamo mai fatti troppe domande? Onestamente non molto. Pochi sanno che dormire sul materasso giusto migliora la qualità delle nostre giornate. Dorelan lo sa e con i suoi innovativi materassi, nati dalla ricerca e dal saper fare italiano, da oltre 50 anni rende unico il nostro riposo. Come unica è l'assoluta qualità dei prodotti Dorelan. Ora lo sai, il materasso giusto c'è e Dorelan. Come unica è l'assoluta qualità di Dorelan.